I miei studi portano una licenza di scuola tecnica industriale, che praticamente era un avviamento, tre anni dopo l'avviamento al lavoro, quindi era una specializzazione più. Prima di finire la scuola eravamo stati richiesti dalla Fiat di Torino con una prova di disegno tecnico, perché a quei tempi alla Fiat esisteva la scuola allievi Fiat. Avevamo fatto un provino di disegno, però poi per un certo periodo nessuno ci aveva più contattato. Nel frattempo c'era la possibilità di Ferragna, ho fatto una domanda, ma nel giro di pochi giorni sono stato chiamato, ho fatto un colloquio di assunzione che è stato abbastanza impegnativo, perché io ero destinato ad andare a sostituire una persona che aveva cambiato azienda e aveva già una specializzazione abbastanza elevata, quindi ricordo le domande tecniche che erano abbastanza… però fresco di studi non aveva avuto problemi. Il colloquio d'assunzione è stato abbastanza impegnativo, perché le domande erano specifiche e tecniche, però fresco di studi è stato abbastanza facile rispondere. Mi ricordo una cosa molto interessante che mi è stato chiesto il passo della vita micrometrica, perché io andavo a ricoprire un posto all'officina meccanica di precisione dove il micrometro era uno strumento di quelli più usati. Passo 0,5 perché? Perché era la corona del micrometro, era divisa in 50 parti e quindi ogni parte diventava un centesimo di millimetro, ve lo ricordo dopo quasi 50 anni. Dopo il colloquio, che è stato positivo, sono stato invitato a fare la visita medica, la visita medica non ha dato problemi e quindi sono stato inserito nell'OMP, Officina Meccanica di Precisione. Il signore che si era praticamente licenziato è stato con me ancora tre o quattro giorni per darmi le prime direttive dritte del mestiere che stava facendo. Lui lavorava a una macchina tornitrice di precisione e faceva principalmente la costruzione di tutte le parti, diciamo rulli, rulletti che andavano a completare le macchine perforatrici, i fori laterali della pellicola, quindi uno può anche immaginarsi la precisione totale alla fine di queste macchine che era poi a qualche millesimo di millimetro. Il ruolo dell'OMP era proprio di costruire, partendo dalla fusione, fusione in ghisa della parte, diciamo, telaio, fusione in alluminio della parte bracci e roba del genere, la macchina finita che poi andava in produzione. Quindi l'OMP era composta da tornitori, fresatori, rettificatori e montatori di queste macchine. La macchina usciva finita per andare in produzione. L'OMP, sì, più che a livello di gerarchia c'era persone che lavoravano da tanti anni, quindi con un'esperienza molto maggiore dalla mia o degli altri giovani assunti nello stesso periodo. Eravamo più o meno, così a occhi croci, una trentina di persone. Questa trentina era composta da tre tornitori, tre fresatori, tre piallatori. Poi il maggior numero di persone lavoravano le rettificatrici, che erano le macchine che andavano a finire il punzone, il cosiddetto punzone, che era proprio quello che faceva il foro dentro la pellicola, e quattro o cinque montatori di queste macchine che venivano poi collaudate con dell'apparecchiatura, dovevano rispettare certi standard per ottenere una precisione di qualche millesimo sulla bobina da cento metri. Non ho imparato tutto, anche se già alla scuola tecnica industriale facevamo la parte di torneria, però c'era un'altra persona che lavorava a fianco a me, che aveva già un'esperienza di venti anni, se non di più, di torneria di queste parti delle macchine perforatrici, che quando io avevo bisogno di qualche spiegazione, sicuramente chiedevo a lui e mi sono formato poi anche io. Poi oltre alle macchine perforatrici, all'OMP è stata l'officina che ha prodotto i primi estrusori, quando è cambiata la stesa dell'emulsione dalla cortina all'estrusione. Questo è stato un lavoro molto impegnativo per il fatto che l'estrusore era composto di elementi di accello inossidabile, della lunghezza di 1.400 mm. la parte dell'OMP, oltre alla rettifica di questi elementi, era anche quella di praticare un foro da 10 mm per la lunghezza dell'elemento, quindi 1.400 mm, e questo foro doveva praticamente partire da un lato e uscire dall'altro, ma con una precisione abbastanza stretta. Non era proprio necessario il centesimo, perché questo foro serviva solo e esclusivamente per il passaggio di acqua calda e per il riscaldamento dell'elemento. Dopo vari esperimenti è stato deciso di fare questo foro sopra un tornio ed era quello che ci lavoravo io. Quindi il pezzo veniva staffato sul carrello mobile del tornio, poi la punta da trapano stretta dentro al mandrino, che il mandrino normalmente era la parte che stringeva il pezzo da lavorare, in questo caso si invertivano le cose, il pezzo stava fermo e girava la punta, quindi con spostamenti di un centimetro per volta andavamo avanti, 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 fino ad arrivare a 700 mm, circa la metà. Poi il pezzo veniva girato e facevamo l'altra metà e stavamo con il fiato sospeso fino a quando questi due fori non si incrociavano. Abbiamo sempre avuto la fortuna che è andata bene, la maggior parte delle volte non si vedeva dove andavano a incrociarsi, perché poi l'acciaio inossidabile è abbastanza un materiale non facile da lavorare perché si impasta facilmente e quindi ogni 3-4 mm di penetrazione bisognava uscire completamente con la punta per scaricare il truccio, lo so, il truccio era quello che poi andava a influenzare la parte rettilinea del foro. Però 10 mm per una lunghezza di 1.400 mm, non sono poche, però con l'esperienza siamo poi riusciti addirittura a forare un elemento in una giornata lavorativa, quindi era già un buon risultato. E ne abbiamo prodotti per Ferragna come minimo 4-5, perché oltre a quelli che andavano negli impianti di stesa c'era una parte che veniva tenuta di scorta e la cosa che ci inorgogliva e forse più di tutto era quella che questi strusori li producevamo anche per lo stabilimento che c'era in America. I primi strusori avevano 5 strati, l'ultima generazione, se mi ricordo bene, erano 7, quindi aveva praticamente migliorato di parecchio dalla stesa cortina, che praticamente era uno strato per volta, andavamo a 7 strati in contemporanea. Il periodo abbastanza corto che io ho vissuto come un Ferragna dava l'impressione di una gestione familiare, perché una cosa che mi è rimasta impressa è che a San Luigi, che era l'onomastico degli ingegneri schiatti, a tutti i dipendenti veniva distribuito un dolcino, un panettoncino per ricordare questo onomastico. passaggio a 3M è stato un po' fatto in pompa magna, nel senso che a tutti i dipendenti è stato distribuito un pacco regalo con tutti i prodotti che la 3M produceva, quindi c'era il nastrino colorato, il nastrino adesivo e tutto quello che era produzione 3M. l'organizzazione diciamo che secondo me è cambiata, nel senso che 3M colosso a livello mondiale, quindi ci sono stati i primi scambi tra Ferragna e Saint Paul, dove c'erano altri stabilimenti, persone che si spostavano, persone che arrivavano dall'America, portavano le loro esperienze, c'è stato uno scambio abbastanza proficcio di queste cose. Poi i primi anni il marchio Ferragna 3M, fatto già con la previsione di scorporarlo poi in seguito per passare poi definitivamente a solo 3M. Diciamo che anche dal punto di vista economico qualcosina è cambiato, anche nell'organizzazione, qualche soldino in più a casa penso che l'abbiamo portato da quello che era, però non si può fare il paragone perché Ferragna non c'era più quindi poteva magari essere una cosa diversa. 3M dopo lavoro lo curava parecchio, quindi si sono formati diversi gruppi, dal gruppo fotografico al bridge, al tennis, al ciclismo, ci teneva parecchio 3M ad avere questo passatempo dopo lavoro per i propri dipendenti. Diciamo che la parte sportiva non è che la praticassi più di tanto, perché già io abito a Cengio e a Cengio c'era qualche attività di questo genere, quindi spostarsi da Cengio a Ferragna non mi sembrava una cosa, ho continuato nel mio paese diciamo. L'infermeria era praticamente completa di tutto perché c'erano a tempo pieno praticamente due medici, gli infermieri e io mi ricordo che avevo avuto dei problemi di salute e dovevo fare delle punture e ne approfittavo perché gli infermieri nelle ore determinate facevano anche servizio di iniezione, addirittura se uno aveva bisogno di lastre radiografiche le faceva direttamente, diciamo che invece negli ultimi anni è stato ancora di più ampiato perché addirittura all'interno dello stabilimento facevano gli esami del sangue, perché per normativa chi era soggetto a lavorazioni pericolose o nocive doveva periodicamente essere controllato dal punto di vista, ad esempio io che quando facevo lo strumentista elettronico mi occupavo anche di macchine, di apparecchiature che avevano una fonte radiattiva perché misuravano lo spessore della pellicola e portavamo noi la piastrina dosimetrica per vedere se assorbivamo delle radiazioni, quindi la normativa prevedeva che ogni 6 mesi facessimo sia la visita medica che gli esami del sangue. Io all'OMP ho passato 13 anni giusti giusti giusti, dal 62 al 75, poi avevo avuto l'occasione di farmi all'esterno della fabbrica delle esperienze anche in campo elettrico ed elettronico. Il lavoro dell'OMP era interessante, però dopo un po' di anni cominciava a diventare di routine, non c'era più l'entusiasmo di fare qualcosa, quindi ho chiesto se era possibile essere trasferito a un tipo di lavoro diverso da poter mettere in campo le mie esperienze elettriche ed elettroniche. ho ottenuto il trasferimento, sono passato ad un altro gruppo che si chiamava strumentisti elettronici ed eravamo solo in tre persone per tutto lo stabilimento, perché 75 eravamo ancora abbastanza presto come tipo di anni. ci occupavamo, diciamo già prima che i primi tempi di questa esperienza erano stati abbastanza duri, duri nel senso che non conoscevo la locazione dei reparti, non conoscevo il tipo di apparecchiature dove poi dovevamo metterci le mani e quindi ho fatto un pochino di fatica, però poi il lavoro mi dava più soddisfazione perché era qualcosa di nuovo, di più complesso, di più, ci occupavamo sia della strumentazione elettronica di processo che della strumentazione di laboratorio, un lavoro molto vasto, un campo molto vasto, questo tipo di lavoro ci portava anche a fare un servizio di reperibilità nelle 24 ore, perché se succedeva un guaio in un impianto di notte ci doveva essere la persona che possibilmente lo mettesse a posto, quindi fatto in tre persone era molto impegnativo perché facevamo due settimane libere e una settimana di reperibilità. Erano tempi diversi dai nostri, non c'erano i telefonini cellulari, quindi uno doveva stare a casa perché se c'era necessità lo chiamavano solo con il telefono fisso, però eravamo anche abbastanza giovani, guadagnare qualcosa in più faceva cassa. La maggior parte di queste apparecchiature erano termoregolatori, regolatori di temperatura, perché i prodotti che Trem usava per la fabbricazione della pellicola erano diversi, venivano a seconda di quale tipo di prodotto chimico veniva usato, veniva rifuso se era già stato fabbricato, quindi la temperatura era molto importante. Prima di andare a finire nella caldaia di fabbricazione, i vari prodotti venivano scalati a temperature diverse. Poi la temperatura era una cosa molto importante, ma come era importante anche la regolazione della temperatura di umidità negli ambienti di lavoro, perché ad esempio negli impianti di tagliatura dove l'asse di pellicola veniva svolto per essere tagliato e ridotto nel formato che poi veniva usato all'esterno, se c'era la presenza di cariche elettrostatiche, quindi di ambiente molto secco, si formavano cariche elettrostatiche, quindi l'umidità veniva controllata con una tolleranza del più o meno 5%, anche questo tipo di lavoro faceva parte della nostra attività. Poi noi andavamo parecchio nei laboratori, i laboratori usano un sacco di strumenti, dal piacometro a tutto quello che poi ha il conduttivimetro e tutto quello che viene di seguito, ed era compito nostro anche la manutenzione di questa strumentazione. Andavamo poi nel più complicato che addirittura era il misuratore del contenuto di argento nella pellicola, si chiamava Cristalloflex, era uno strumento a raggi X che andava a esplorare un campione e con un calcolo matematico che si faceva alla macchina, ci dava la quantità di argento di argento in grammi, perché all'inizio di ogni campagna distesa, prima di partire con la campagna vera e propria, prelevavano un campione, lo misuravano con il Cristalloflex e la quantità di argento andava bene e allora procedevano con la fabbricazione. È stato un incidente banale che può capitare una volta su un milione di casi, ho perso la prima falange del dito indice dalla mano destra, in una mattina che nevicava, però non c'entra, nella nostra attività era previsto anche la riparazione di uno strumento che si chiama splicer, splicer voleva dire un'apparecchiatura che andava a incollare due campioni di pellicola con un nastro adesivo, perché dalla pellicola che veniva fuori dal caricatore venivano formate delle bobine incollando di seguito i campioni per poi essere sviluppati nelle macchine sviluppatrici. Questa macchina funzionava in un modo abbastanza semplice, un campione camminava lungo una guida, si fermava a una distanza predefinita, poi di seguito veniva infilato un altro campione, anche lui si fermava a una distanza prestabilita, veniva fuori il nastro adesivo, scendeva un pistone pneumatico a 300 gradi di temperatura, scaldava il nastro, si incollava, risaliva, tagliavano e andava avanti così. Questa macchina dava non tanti problemi, però ogni tanto capitava che la distanza di questi campioni non era quella che era voluta, quindi bisognava intervenire, fare delle regolazioni in modo che venissero perfetti. L'altezza di questa macchina era quella di un tavolino, perché era messa su un tavolino, questa macchina lavorava a luce rossa, quindi praticamente a buio, però quando c'era da fare la manutenzione logicamente veniva accesa la luce, quindi era una macchina che era molto ben protetta dal punto di vista della sicurezza, però logicamente per andare a intervenire sulle regolazioni le sicurezze andavano un pochino escluse, quindi il carter saliva e il micro che faceva la sicurezza del pistone che scendeva veniva liberato e l'operatore schiacciandolo poteva vedere il pistone quando scendeva alla distanza. Io stavo facendo quello, però lo facevo piegato sulle gambe senza pensare che dietro di me c'era un altro tavolino. Io ho fatto per alzarmi, per andare a vedere meglio da vicino la distanza. Il destino vuole che con la mano sinistra sono andato a schiacciare il micro della sicurezza che può capitare una volta su un miliardo. Nello stesso tempo picchiando con la schiena del tavolino ho perso un attimino l'equilibrio e mi è finita la mano sotto il pistone, il pistone è sceso e il dito c'era sotto. Oltretutto poi questa macchina, quando il pistone scendeva, aveva un suo tempo di riscaldamento, è rimasta la mia prima falange del dito sotto il pistone a 300 gradi e il pistone non risaliva. Io ho dovuto fare con la mano sinistra tutte le operazioni necessarie per farlo risalire. Ho tirato fuori e sì, c'era il monco che pendeva, cotto praticamente, perché a 300 gradi la carne cuoce. E niente, con un po' di coraggio, con un fazzoletto, sono andato da solo in infermeria. Mi hanno portato subito con la macchina di servizio qui all'ospedale di Savona, a San Paolo, che c'era la chirurgia dalla mano. Mi ha visto subito il professor Mantero e così scherzando mi ha detto guarda, quel pezzo di dito lì cotto, lo possiamo dare a un gatto, perché non lo attacchiamo più in nessun modo. E alla sera niente, hanno poi finito l'operazione, me l'hanno ricucito, ho tagliato i tendini e piano piano è guarito. A quei tempi c'era il pretore, quello che decideva sopra, c'è stata anche l'udienza, dove io ho spiegato tutto quello che era successo, diciamo che l'azienda non aveva responsabilità dirette su quello che era successo, doveva intervenire l'Inair, che era l'istituto nazionale, ho fatto le visite del caso, però la mancanza della prima falange del dito della mano destra porta 7 punti di invalidità, però c'è una franchigia a 11 e quindi io non ho preso neanche un centesimo di risarcimento. Pazienza, cosa faccio? Finita così. Poi piano piano, lavorando, perché per avere indenizzo, per arrivare a 11 punti, doveva essere dimostrata l'incompleta sensibilità dalla parte terminale del dito. Diciamo, io lo dico per fortuna mia, l'incessibilità mi è rimasta e quindi ho ripreso a lavorare e uno si abitua e riesce a fare uso anche di quel pezzo che è rimasto. Ero, penso, una delle poche persone che aveva esperienza sia in campo meccanico di precisione che in campo elettrico ed elettronico. L'azienda ha fatto presto a prelevarmi, perché negli anni 85-86 era nata la necessità della certificazione dei sistemi di qualità aziendali secondo una norma, che era la norma ISO 9002. E Ferragna, anzi 3M, aveva necessità di spostare i propri prodotti sul mercato europeo e quindi aveva l'esigenza di avere il sistema di qualità certificato. Il punto 411 della norma ISO 9002 prevede che tutte le apparecchiature di misura, controllo e collaudo devono essere a intervalli stabiliti calibrati. Calibrati cosa vuol dire? Riferiti a quello che è uno strumento o una misura di livello superiore, perché dobbiamo avere la certezza che quello che stiamo misurando è quello vero, associato alla sua incertezza, perché ogni apparecchiatura e ogni strumento ha un'incertezza di misura, quello è inevitabile. Quindi TRER ha fatto una scelta abbastanza costosa, perché questa calibrazione si poteva anche fare rivolgendosi agli istituti all'esterno dello stabilimento. I famosi centri SIT, Servizio Italiano Taratura. Però la scelta che è stata fatta è quella di costruire all'interno dello stabilimento un laboratorio metodologico. Laboratorio metodologico cosa vuol dire? Il nostro è di 100 metri quadri, completamente isolato dall'esterno con pannelli fonossorbenti, con aria filtrata al 99,9% di filtri MU per eliminare al massimo la presenza di polvere, è stato costruito un pavimento in lega ipossidica antistatica per evitare le formazioni di cariche elettrostatiche che potevano dare poi dei problemi su delle misure elettriche molto sofisticate. Molto sofisticate, noi arrivavamo a misurare il centesimo di microvolt, quindi diciamo che è abbastanza... È stato costruito questo laboratorio con temperatura interna, con oscillazioni massime di 0,2 gradi, l'umidità relativa con oscillazione massima del 3, massimo 5%, teniamo conto che è molto elevata per l'umidità relativa, perché in commercio a quei tempi si trovavano strumenti che avevano un'incertezza di misure di più o meno 5%, quindi è abbastanza problematica. Però per fare delle misure di un certo tipo bisogna attrezzarsi con della strumentazione idonea. Strumentazione idonea cosa vuol dire? Vuol dire che la metodologia parte da una piramide dove sul vertice ci stanno gli strumenti di riferimento a livello nazionale. Scendendo abbiamo gli strumenti di utilizzo, di riferimento per quello che è poi lo strumento che si usa nel laboratorio, nell'impianto. Quindi è stato un investimento oneroso perché per ogni unità di misura noi ci siamo forniti di uno strumento primario che era il nostro riferimento, che poi veniva controllato all'esterno periodicamente per avere un riferimento. La catena metodologica non doveva essere interrotta, partendo dal vertice della piramide, dallo strumento, chiamiamolo più preciso, ma più preciso è un termine abbastanza vago, però certificato da un istituto primario tipo Gustavo Colonnetti, tipo Galileo Ferraris e scendendoli. Poi da questi venivano formati gli strumenti che noi chiamavamo di lavoro. Avevamo diviso in tre gruppi, gruppo 0 che era il top della gamma, il gruppo 1 e il gruppo 2 che erano i nostri strumenti di riferimento. Quindi per ogni unità di misura, quindi misure dimensionali, con le misure dimensionali come riferimento primario noi avevamo una scatola di blocchetti piano paralleli certificati da un centro riconosciuto, quindi un centro SIT che a sua volta era certificato dall'istituto primario. Questo è il nostro riferimento primario. Per le misure di massa peso, qui era un po' anche un nostro vanto perché avevamo addirittura una serie di pesi di classe E2 che è una delle più spinte. Cosa vuol dire E2? Vuol dire che noi in Italia non trovavamo nessun istituto in grado di certificarceli perché la precisione era più alta di quello che loro avevano. Quindi le mandavamo addirittura in Svizzera. Poi noi ci occupavamo di misure di umidità relativa, riferimento primario uno strumento che si chiama Mitchell arrivava direttamente dall'Inghilterra, usava la cella di Peltier come riferimento, quindi misura della temperatura di appanamento dello specchio per poi rilevare l'umidità relativa. Quindi anche questo a scadenze stabilite e veniva spedito in Inghilterra per essere tarato. Misura di temperatura. Temperatura, il nostro riferimento primario era una PT 25, PT sta per platino, PT 25 Ohm, quindi vuol dire 0 gradi, 25 Ohm esatti, certificata. Questa la portavamo noi perché assolutamente era molto delicata, quindi non potevamo spedirla, ci andava un dipendente del laboratorio con la propria macchina imballata, con la sonda e veniva portata direttamente all'Istituto Gustavo Colonetti a Torino per essere certificata. Andavamo in giro per lo stabilimento dove la strumentazione non era trasportabile, però la maggior parte veniva portata in laboratorio. Così a grandi linee noi abbiamo dovuto fare un inventario di tutta la strumentazione presente in fabbrica, suddividerla in gruppi in base alle esigenze che aveva chi la usava. Quindi il gruppo i gruppi erano due, il due e il tre, il gruppo due e la calibrazione era a carico nostro del laboratorio, il gruppo tre era a carico dell'utente, però il nostro laboratorio forniva la strumentazione di riferimento per farsi questa taratura. Noi gestivamo praticamente all'anno qualcosa come 1500 strumenti, quindi abbiamo dovuto provvedere a fare l'inventario con il database. Abbiamo diviso lo stabilimento per aree, perché sennò lo stabilimento di Ferragna, TREM era grande, quindi A, B, C, D, a seconda dei reparti, a seconda del... In ogni gruppo abbiamo fatto l'inventario della strumentazione, abbiamo stabilito, seguendo dei manuali e anche un po' per l'esperienza nostra, la frequenza di queste tarature, che poi sono state modificate nel tempo a seconda delle caratteristiche di come si comportavano. Quindi noi alla scadenza di ogni mese mandavamo al responsabile, perché poi in queste aree è stato nominato un responsabile di calibrazione ed era il nostro interlocutore diretto. Noi alla scadenza di ogni mese stampavamo la lista degli strumenti in scadenza di quel mese dopo, lo mandavamo al responsabile ed era compito suo, a seconda del programma che noi avevamo stabilito, farci avere in laboratorio la strumentazione. Riferimenti anche per i reparti di produzione delle misure dimensionali nei blocchetti piano paralleli, i blocchetti piano paralleli si comprano dalle aziende che fanno i blocchetti piano paralleli. Noi avevamo in elenco qualcosa come un 200 termometri digitali, quindi compravamo all'esterno i termometri digitali e a scadenza stabilita facevamo il controllo, a seconda del campo scala che venivano utilizzati per avere maggiore precisione. Noi sappiamo che il punto triplo dell'acqua che è famoso, il punto triplo dell'acqua significa che nello stesso momento sono presenti i tre stadi gassoso, liquido e solido. Quindi facevamo con il ghiaccio, ghiaccio fondente, ghiaccio con un'aggiunta di acqua, quando il ghiaccio sta fondendosi nell'acqua la temperatura è 0,01 grado, quindi questo è già un riferimento abbastanza preciso per trarre i termometri digitali. Taravamo gli igrometri, per la taratura dell'igrometro, l'igrometro di per sé come strumento non è che sia molto diffuso, è più diffuso il termometro e l'igrometro incorporati. Taratura dell'igrometro è abbastanza difficoltosa nel senso che ci vuole un'apparecchiatura che generi umidità a dei punti fissi e stabiliti, quindi ci siamo forniti di una cella termostatica e Reus, che sono quelle che in commercio erano le più affidabili. Con il nostro riferimento primario, lo strumento Mitchell, che mandavamo a tarare in Inghilterra, messo con la sonda dentro la cella termostatica, affiancata dalla nostra serie di strumenti, facciamo la comparazione e quindi andavamo a fare delle regolazioni se era necessario fare. Una cosa che non ho ancora ha detto che a ogni taratura andava fatto un rapporto di calibrazione, perché l'utente doveva sapere quanto era fuori quando ce l'ha mandato e che valore dava, che scostamento aveva quando noi lo restituavamo, associato alla sua incertezza, perché ogni strumento ha la sua incertezza di misura, che è formata da tanti parametri messi insieme. Eravamo in tre persone, c'era un responsabile del laboratorio, ma diciamo che lì la gerarchia non era poi tanto osservata. Ognuno di noi si era un pochino diviso i compiti, io mi occupavo di misure dimensionali per la mia esperienza all'OMP, alla famosa OMP, che mentre i miei colleghi non avevano fatto esperienze di meccanica e di precisione, ma erano più esperti di elettricità e di elettronica. Io mi occupavo di temperatura, di umidità, di misure dimensionali e massa appeso. Poi il resto, ad esempio le misure elettriche, facciamo la taratura dei tester digitali, di tutto quello che nell'impianto andava a misurare qualche parametro elettrico. Questo lo facciamo con un generatore della digital, che come avevo detto prima, aveva come risoluzione del centesimo di microvolt, era un generatore sia di corrente che di resistenza che di tensione. Questo tipo di lavoro, quando il nostro laboratorio è diventato punto di riferimento per la certificazione dei sistemi di qualità delle altre unità produttive presenti in Italia, da Sulmona a Grassobio a Ozzaro a Settala, ci portava anche a fare delle trasferte per andare in loco a fare queste tarature. E quindi era anche un viaggio insieme, perché andavamo sempre in due persone, per accelerare i tempi e per dividerci un pochino le mansioni. Una cosa che non ho detto prima, che mi ha creato entusiasmo a fare questo tipo di lavoro, il fatto che noi abbiamo fatto tanti corsi di specializzazione, tanti corsi con persone molto all'avanguardia. Io ho avuto dei rapporti con il professor Crovini, che era il numero uno in Italia per le misure di temperatura, ho avuto rapporti con altri luminari per misure elettriche, per misure di massa peso. Una cosa che non abbiamo detto è quella che anche il nostro laboratorio veniva poi, era soggetto a visite periodiche di controllo, fatto da ispettori della Certikin, perché la calibrazione delle apparecchature di misure e controllo con l'audo, facendo parte del punto 411 della norma, quando gli ispettori venivano a Ferragna per fare la verifica, quello era anche un punto di soggetto a verifica e quindi il nostro laboratorio veniva e andavano a spulciare anche proprio tutti, se noi eravamo a posto come certificati di calibrazione, con le scadenze, era un bel lavoro. Noi ci sentivamo anche un pochino privilegiati, sa quando? Quando andavamo nelle altre unità produttive della 3M, perché? A parte che era una unità produttiva molto più piccola di 3M e Ferragna, quindi nella maggior parte dei casi non esisteva l'officina di manutenzione, non esisteva il gruppo di strumentazione. Noi abbiamo trovato molto spesso delle persone che facevano un certo tipo di lavoro su una certa apparecchiatura senza conoscere quali erano i principi generali di questa macchina, gli avevano insegnato che bisognava schiacciare un pulsante e fare un'altra cosa, in quei casi lì era importante ed era anche abbastanza, chiamiamolo, gratificante il fatto di avere più conoscenze di loro e poter andare a dargli delle spiegazioni, dei concetti. Io ci passo ogni tanto davanti a Ferragna, la cosa che mi viene in mente, lo dico sinceramente, è il mio laboratorio, io lo chiamo mio laboratorio perché ci ho vissuto dieci anni e mi ha dato tante soddisfazioni. Il fatto perché sia successo il tutto, secondo me è anche vero, il mercato della pellicola era già un mercato saturo e quindi un mercato in decadenza fino a quando poi finisce tutto. L'avvento del digitale secondo me ha dato il colpo di grazia a tutto. Quello che mi chiedo è che con le costruzioni che c'erano, con le apparecchiature che c'erano presenti all'interno, buttare via tutto e non farci più niente secondo me è stata proprio una pugnalata anche per chi ci ha vissuto 36 anni come ci ho vissuto io, perché con un po' di buona volontà secondo me si poteva recuperare certe cose, certe tecnologie e certe strutture. Io ho un figlio che stava studiando e pensavo speriamo quando poi è lavorato in qualche modo cercheremo di poter magari fare il cambio, farlo assumere al mio posto quando io andavo via e questo è caduto tutto perché è finita l'attività.